For Edile è un distributore di materiali edile e nasce come una commerciale nel 2014, nel 2019 apre un primo punto, poi si trasferisce e attualmente abbiamo due punti che ci troviamo su Roma, uno specializzato nel cartongesso e uno generico come Edile. Abbiamo una particolare attenzione per i prodotti certificati CAM, specialmente noi abbiamo fornito molti prodotti, molti sistemi sul Superbonus e lì era indispensabile questi tipi di certificati. Noi lavoriamo molto con i premiscelati, diciamo come cemento sfuso ne facciamo poco e utilizziamo quasi tutti i prodotti insaccati e premiscelati. Heidenberger è sicuramente un fornitore affidabile che ci permette da fornire comunque i cantieri in tutta Italia e ha comunque una gamma di prodotti che soddisfa tutte le nostre esigenze anche quando dobbiamo fare esempio i cantieri sposi, ci permette insomma le consegne e le forniture su tutti i cantieri. Per il cemento credo che sia importante che venga prestata particolare attenzione sulla sostenibilità in quanto comunque anche le direttive europee ci indicano che dobbiamo proseguire su quella strada e quindi sicuramente noi scegliamo fornitori che adottano questo tipo di processo. Noi non scegliamo un prodotto solo per il prezzo ma sicuramente identifichiamo un prodotto anche per la qualità. Con la fine dei bonus che ci ha comunque ridimensionato un po' il lavoro noi stiamo cercando di investire su nuovi settori tra cui il cartongesso e tutto il discorso impianti quindi pompe di calore, tutto quel settore che rispecchia risparmio energetico.